Sì, cioè Gesù, la chiesa e casa sua. Certo. Ecco, allora, tra questi ospiti di Gesù, ce n'è mai stato uno con un dito della mano destra senza una falange? Sì, certo, Antonio. È arrivato qui l'estate scorsa, in pantaloncini, maglietta e tre valigie. Dormeva in camera con Marco. Poi un giorno, poco dopo Natale, è sparito senza dire nulla. Ha anche lasciato tutta la roba con cui era arrivato. Grazie, Don Mauro. Forse aveva ragione. Su cosa? Sull'anima. Buonasera, commissario. Buonasera, Righi. Allora, come va? La trattano bene qui? Sì, commissario. Mi trattano bene, non si preoccupi. Senti, Marco, posso darti del tu? Certo, faccia pure. Perché hai confessato? E che cosa dovevo fare? Perché hai confessato il falso? Il falso? In che senso? Marco, tu hai un fratello, vero? Un fratello? Sì, sì, ho un fratello di otto anni più giovane, ma non lo vedo da anni. Ma cosa c'entra? Ecco, vedi? Continui a mentire. Anche questo è falso. Non lo vedi solo da due mesi, da Natale, è vero? Sì, è vero. E allora? E allora continui a proteggerlo. È sempre stato così, vero? Tu il fratellone buono, lui il ragazzo strano, problematico, il drogato. Da ragazzi siamo rimasti soli. Nostra madre è morta quando Antonio aveva 14 anni. Nostro padre non l'abbiamo praticamente mai visto. Antonio è sempre stato un ragazzo con dei problemi. Frequentava brutta gente.